Siamo con Giovanni Ziberna di Cine Sole Cinema, ciao Giovanni, intanto due domande al volo, Quanti anni hai? Da dove chiami? No ma nel senso di dove sei e che cos'è Cine Sole Cinema? Avevo 38 anni, chiamo da Mariano del Friuli vicino a Gorizia, anche se non sono nato qui però siamo trasferiti da un po' di anni, dove abbiamo spostato la Cine Sole Cinema che è la nostra casa di produzione cinematografica, la nostra perché lavoro insieme a Valeria Baldan che è mia moglie, che è una casa di produzione che è nata ormai, sono passati tanti anni, è verità è dal 2003 che lavoriamo insieme, già nel 2001-2002 insieme a Valeria lavoravamo con Ermanno Olmi, è nata lì la nostra formazione, anche la nostra passione per il cinema, poi abbiamo fondato la casa di produzione che è dopo la nostra conversione che nel 2011 abbiamo consacrato il cuore immacolato di Maria e ci siamo ripromessi di fare dei film buoni per anche evangelizzare, per portare anche un po' di luce in questo ambiente cinematografico che ne ha tanto bisogno. Io mi vergognerei che fossi in te, ora consacrare addirittura una casa di produzione alla Madonna è forse un po' esagerato. No ce n'è bisogno, ce n'è bisogno. Lo so, lo so. Ce n'è bisogno, anzi. Ascorta, prima di passare all'argomento principale ti vorrei chiedere, dal 2011 a oggi, che sono quasi dieci anni di attività, quali sono i principali film che avete prodotto, coprodotto? Il più importante è La vita di Santa Veronica Giuliani che si chiama Risveglio di un gigante, che è un film che è stato molto impegnativo, è un film documentario, quindi un documentario con anche parti di fiction, pensato per le sale cinematografiche, che ha visto anche l'uscita nelle sale, adesso è distribuita un po' in tutto il mondo, e poi è uscito in DVD grazie anche alla Dominos Production. Toscana? Sì. Da dove chiamiamo noi? E quello sicuramente come opera cristiana è la nostra opera più grande. E poi il film che stiamo facendo adesso, sono tanti anni che ci lavoriamo, appunto, è nel 2012 che abbiamo fatto la prima intervista a Padre Amort, e il film è Libranos, dove affronteremo proprio il tema dell'esorcismo, ma soprattutto quello che vogliamo raccontare, quello che solitamente non viene raccontato nel mondo cinematografico degli esorcismi, ovvero ci si concentra sempre sull'aspetto di paura, sull'aspetto di quanto il diavolo sia forte, e non sull'aspetto di quanto Dio sia forte, e che in verità l'esorcismo è un luogo spirituale, lo chiamo, di grande luce, dove si vede veramente la forza del Signore che agisce violentemente per salvare le anime, e fa vedere come la forza di Dio agisce nella vita delle persone, quanto sia importante la conversione e anche i pericoli di questo mondo, questo assolutamente. Ti confesso due cose. Prima che ho intervistato Padre Amort prima di te, ma vabbè, per il blog, cioè per il giornale in realtà, l'ho intervistata, a parte le battute. Ti dico la verità, mi sarei immaginato di vedere un, diciamo un ultra cinquantenne, ma è vero, perché in genere sono argomenti che quando se ne parla bisogna avere, diciamo, una certa maturità, e invece ti devo dire la verità che quando mi ho sentito parlare a Radio Maria, puoi scoprire che hai meno di 40 anni, anche se l'età non si dice, è un piacere, nel senso che non è un argomento facile, e spesso è un argomento per addetti ai lavori. Già è difficile scriverne bene e trovare anche sacerdoti preparati, perché è uno degli argomenti più... cioè meno graditi, ecco, fino a che si parla della carità, della misericordia, trovi le porte aperte. Quando si comincia a toccare il tema preghiere di liberazione, esorcismi... Sì, ma non può dire che siamo stati fortemente aiutati dalla Madonna, quindi questa consacrazione è servita, perché sia l'incontro veramente con Padre Amor, che ha aperto tutto quanto, questo è stato provvidenziale, perché il fatto stesso, il motivo per cui abbiamo voluto intraprendere questo viaggio di questo film, è legato sia alla nostra conversione, ma anche al fatto che un sacerdote esorcista mi ha chiamato a fargli da ausiliare. E quindi sono entrato in questo mondo, ho visto quello che succede, e ho visto la necessità di raccontare, la necessità anche di sensibilizzare le persone su questo, perché ci sono credenti che credono ancora che una persona posseduta sia contagiosa, come una malattia, quindi c'è bisogno di fare una formazione, perché non viene fatta. Gli stessi sacerdoti sono completamente a digiuno di questi argomenti, a meno che non hanno fatto dell'esperienza, hanno fatto un percorso. E quindi la loro stessa formazione, come anche Don Amor diceva, pecca tantissimo su questo aspetto, che invece è un'opera di carità importantissima. evangelica tra l'altro. Esatto, perché poi ho visto famiglie intere convertirsi. No, più che altro perché poi che le dicono, ma il primo esorcista è Gesù, è Gesù stesso nel... Cioè... Sotto i esorcismi del Vangelo non è che ci rimane... Ne resta un pezzo meno, è un peccato. E sì. In tutti i sensi. E la Madonna ci ha aiutato perché ci ha dato una guida spirituale per questo film, che è padre Francesco Bamonte, che è il direttore dell'AIE dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti. E lui ci sta... Il direttore di padre Amort. Esatto. E lui ci sta proprio facendo da guida su questo progetto, ci sta aiutando tantissimo, e ci dà supporto, anche ci consiglia chi intervistare le tematiche più importanti. Senti, invece di rubarmi il lavoro, no? Mi dici che sono all'intervista, anche se non è un lavoro, ma anche il nostro è una piccola missione di evangelizzazione. Mi permetto di scherzare perché siamo quasi coetanei, quindi... Puoi dire qualche nome che troveremo nel film? Allora, un po' se ne vedono già nell'anteprima che abbiamo messo online. Quindi c'è Monsignor Renzo Lavatori, c'è padre Francesco Bamonte, padre Carlin, e il Don Amort, naturalmente, e poi c'è il... Vediamo cosa... Adesso ce ne sono tanti, eh? Perché poi alcuni sono cambiati. Abbiamo anche uno psicologo, e uno psichiatra che è il... Ho un vuoto. Non è grave, non ti preoccupare. Ho un vuoto, un vuoto. Quei nomi sono un disastro. Questo vuol dire che l'intervista è genuina. Sì, 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 sì. Non è premeditato. No, l'ho preparato così. Adesso mi torneranno in mente. Comunque sì, nell'anteprima si possono già vedere una serie di interviste. Ascolta, che cosa hai imparato? In più. Allora, ho imparato e continuo di imparare, perché appunto è dal 2011 che studio l'argomento e quant'altro. Il verità, la cosa che la continua conferma, che vedo, è appunto sia l'importanza di questo, l'importanza di raccontare l'aspetto della conversione, della fede, della carità che avviene durante l'esorcismo, raccontare la forza di Dio e anche sottolineare l'importanza dei sacramenti, della vita in grazia, no? Perché alla fine il percorso di liberazione è proprio un percorso di formazione cattolica, che è inevitabile. Non si può pensare di andare dall'esorcista come si va da un medico che ti dà l'aspirina o ti dà la ricetta per risolvere. È un processo di conversione. Se non c'è questa conversione, il percorso è impossibile, perché è solo la conversione a Gesù che permette di essere veramente liberi, no? E in tutto questo c'è qualcosa di assolutamente formativo, no? E vedo anche nel percorso delle persone, perché poi alcune persone sono, siamo anche rimasti in amicizia di persone che ho conosciuto durante certi esorcismi, e vedere come a volte anche dei ritardi della liberazione sono tutti utili alla crescita della persona, nella santità, naturalmente. e quindi una volta uno si dice ma perché succede questo, no? Il motivo c'è. A volte quando uno si trova nel buio fa fatica a vederlo. Però poi c'è, lo si scopre, e si scopre che il percorso che Dio ha per noi, e Dio ha pensato per ognuno di noi, è straordinariamente bello e luminoso. Ma la cosa bellissima che ho capito è che questa lotta la facciamo tutti. La lotta che diventa macroscopica durante l'esorcismo, perché si vedono cose assolutamente straordinarie, ma in verità la facciamo tutti noi, con la cosa più pericolosa, che è la caduta nel peccato. Il diavolo continuamente ci tenta, no? Ed è lì la vera battaglia, dove c'è la battaglia quotidiana di ognuno di noi. Quindi soffermarsi su questo aspetto straordinario, secondo me è importante proprio per svegliare un po' per capire l'ordinario, esatto, la lotta personale che ognuno di noi fa. E a volte anche quando si abbassano un po' con la veglia ci si distrae, non ci si rende conto che gli attacchi ci sono e che il rischio di cadere è dietro l'angolo e c'è un nemico che fa il giro delle mura e aspetta che lasciamo una porta aperta. Questo c'è, è su questo che non deve portare naturalmente una paura, ma assolutamente un affidamento al Signore. E al muratore, che se lo lasciamo agire, è un muratore che non fa i punti che crollano. Assolutamente. Assolutamente. Ascolta, ho anche la condizione scadente, si va bene. Si va un po' scatto. Si, vabbè. Allora, perché mentre parli mi vengono, mi verrebbero a mente tante domande. Ti volevo chiedere, sai vero che esiste un, pochi lo sanno, proprio perché c'è tanta ignoranza, che esiste un master in realtà, proprio in, credo in demonologia, o comunque in, proprio rivolto sia a sacerdoti, sicuro che è apposto loro. se io ho partecipato appunto al, nel 2012, a questo, a questo corso, questo, sì, un piccolo master, diciamo di, una settimana, qualcosa molto, fatto molto bene, mi ricordo che, che è stato lì la base, un po' da cui è partito, poi ho preso anche contatti con, con Padre Amor, quindi. Quindi facciamo un po' di pubblicità, perché in realtà, il video serve per, ma questo per dire che, poi in realtà, pochi ci fanno, cioè pochi nel senso, non so quanto viene, poi spiegato, ma è già dal battesimo, che noi cominciamo, ci sono quelli che vengono chiamati, esorcismi minori, a suo passo, che sono una prima preghiera, che poi gli esorcismi, non sono formule, magiche, sono preghiere, di, costrizione, cioè di liberazione, però di costruire, una liberazione, diciamo un po' costretta, però come diceva, lo stesso Padre Amor, il primo requisito, è la fede, senza fede, diventa un ritro, assolutamente, la cosa più importante, è capire proprio la differenza, dal rituale magico, no? l'importanza della conversione, della fede, è assoluta in questo, ho visto dei sacerdoti, fare degli esorcismi, soltanto facendo il rosario, e con effetti, molto forti, per il demonio, e quindi anche quando, un altro pericolo, che poi, per chi magari, si avvicina, anche con curiosità, a queste cose, o a timore, che ci siano degli attacchi, è quello di andare alla ricerca, della preghiera più potente, ma non è così, il discorso è appunto, un discorso di conversione, di confessione, che è importantissima, a volte basta, una confessione fatta bene, per allontanare, qualsiasi tipo di attacco, è la preghiera, la preghiera del rosario, per esempio, è un'arma fortissima, che tutti noi abbiamo, abbiamo in mano, no? E la comunione, sì, quotidiana, che ha il dono, di, preservare, certo, dal peccato, cioè, no, di purificare, dal peccato veniale, e di preservare, dal peccato mortale, certo, quindi fare, ovviamente con fede, la comunione quotidiana, come diceva, un altro grande esperto, di queste cose, che è Tarciso Mezzetti, è un biglietto, aereo, per il paradiso, sì, ovviamente fatto, in un'ottica di amore, con Cristo, non fuori da questa dimensione, proprio per, per il duplice effetto, ovviamente, confessione, quella, perché senza confessione, non c'è comunione, sì, e, ascolta Giovanni, sì, con tua moglie, ecco, come, come, come è stato questo, questo, lo svolgimento di questo, di questo film, cioè, quando avete, quando vi siete presentati, quante porte in faccia vi hanno sbattuto, la prima volta? Ma, allora, beh, non abbiamo avuto, nessun tipo di, di finanziamento, da, diciamo, delle vie ufficiali, no? Anzi, addirittura, pur avendo superato un, 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 un fondo per poterlo fare, ci è stato rifiutato, proprio per motivi ideologici, abbiamo anche la, 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 la scritta che, che lo, lo dice, no? Come se, il, il motivo era che non c'era un, un contraddittore, non so, forse dovevamo intervistare anche il diavolo, dovevamo dire cosa ne pensavo, però il, il, sicuramente questo ci ha, ci ha fatto, ci ha fatto vedere quella cosa che, in verità sapevamo già, la, la difficoltà di fare un'opera, eh, di fede, eh, oggi è altissima, è altissima, anche parlare semplicemente della Chiesa, non denigrandola, è difficilissimo farlo, però da questo è nata una, una bella scoperta, quello del, del, dell'affidamento alla provvidenza, e vedere come, invece, le, le persone hanno sostenuto tantissimo questo, questo film, abbiamo aperto una campagna di crowdfunding, che ci ha permesso di, di andare avanti, e di portare adesso a termine le, eh, le riprese, questo è stata una cosa, veramente, un grande segno, perché le persone vogliono vedere film buoni, e questo anche, eh, diciamo contrasta su quello che si dice, che certe cose non vengono fatte, perché le persone non vogliono vedere, questo non è assolutamente vero, noi l'avevamo già visto, portando in giro, il film su Santa Veronica Giuliana, la risposta del pubblico è stata, eh, veramente molto, molto presente, e, accorata, continuano ancora adesso, a chiedere se, se ci sono proiezioni, e quant'altro, e vedere il bisogno che c'è, di, eh, di opere buone, e, da un lato, è una chiamata a fare, anche se ci sono le difficoltà, si sa, che la strada, quella giusta, è sempre il salire, si fa fatica, e gli attacchi sono tanti, sono sempre tanti, però il Signore non permette che, che vincano gli attacchi, tutto permette per, per la nostra, per il nostro bene, e, e quindi sappiamo anche questo, diciamo, ci siamo, fatti un po' le ossa con, con Santa Veronica, su, su, preservarci da tanti, da tanti attacchi, però, devo dire che, fa capire anche che stai facendo la cosa, la cosa giusta, che la strada è quella, è quella giusta. Ti posso confessare che, con la mia fidanzata, abbiamo visto il film di Santa Veronica Giuliani, quindi ho la coscienza a posto, avete fatto i compiti, abbiamo fatto i compiti, e non solo, ma, sulle prime, quest'estate, cercando, l'estate passata, cercando, un posto dove andare, sì, una delle mete, è stata, sono stati proprio i posti di Santa Veronica Giuliani, sì, poi ha vinto Papa Celestino V, perché è il Major, però, non ne avrà preso male, Santa Veronica, il suo amore tra il Santo Padre, però, no, questo per dirgli proprio che, posso confermare che è stato un, un bellissimo film, e, siamo in attesa di vedere, quando uscirà, a proposito, la cosa che è importante. Ma in verità, noi volevamo girare le scene di fiction, in primavera, poi questa cosa, del lockdown, ci ha, ci ha bloccato completamente, le riprese, adesso ci mancano, le interviste le abbiamo praticamente finite, dobbiamo ancora fare, un giusto due cose, ma siamo, siamo in dirittura d'arrivo, il problema è riuscire a fare le scene con gli attori, le scene di fiction, e riuscire a poterle girare, naturalmente con le nuove leggi non è, non è facile, anche perché ci sono le stesse regole, sia per le grandi case di produzione, che per quelle piccole, quindi c'è tutta una burocrazia legata a tamponi, la presenza sul set di ordini di controllo che tutto venga rispettato, e questo rende molto difficile poter girare. Adesso speriamo che si riesca il più presto a trovare il modo di fare quant'altro, adesso stiamo organizzando appunto le scene finali, e vediamo. Tanto stiamo facendo il montaggio di tutto quello che è la fase dei contenuti, perché già alla luce di adesso sembrerebbero due film, quindi bisognerà fare una bella selezione di sintesi. fatelo in due parti, vedremo cosa vuole il signore, tutto può essere, perché è talmente ampio questo argomento, dove è difficile dire questa cosa non è importante, eppure ogni piccola parte ha bisogno del suo sviluppo, però su questo adesso è affidato nelle mani di Valeria, che lei si occupa del montaggio, e quindi è in buone mani, perché è molto brava. Bene, allora Giovanni Ziberna, Signo e Sole e Cinema, Libera non so malo, e per Inel d'attesa, il film di Santa Veronica Giuliani. Può essere anche una preparazione. Sì, è vero, è vero, perché lì c'è la lotta. Grazie Giovanni. Ti ringrazio.